L'idea di Vitea è nata più che altro dall'idea che Vitea è un luogo di condivisione e di dialogo tra i coinquilini e comunque a Vitea stanno a cuore i propri coinquilini, cioè i propri inquilini. Ci è stato raccontato soprattutto attraverso la storia di Vitea e volevo che comunicasse calore tra le famiglie e i rapporti che ci sono. Ringrazio tutta la mia classe che dal primo giorno mi hanno sostenuto e anche i miei genitori.